Buonasera a tutti, scusate in dettaglio, sono ancora uno degli autori del libro, io non sono Ilaria Barardi, sono Bernardo Perettini, purtroppo Ilaria ha avuto un impegno improvviso per cui non mi interessa di essere qui con noi, perché io mi metto nel vestito del rappresentatore di questo che è l'ultimo dei quattro libri che la società della ragione ha deciso di presentare all'interno della terza sessione dei suoi libri della ragione, testi dai quali partire per ragionare su questioni che secondo noi sono importanti per dibattere nella società. nella società a partire però dai fatti, non dalle percezioni o dalle facili suggestioni populiste che tanto sono popolari in questi anni. L'ultimo volume che presentiamo è un numero di una rivista che è la rivista di studi sulla versione seminaria che è peraltro diretta da Tana Fils che è stato nostro ospite nel precedente ciclo con il suo libro Contro il decoro. È un numero che è stato popolato dalla delegazione di Gatto, da Adriano Garferini e da Francesca Genello, che raccoglie una serie di contributi rispetto alla questione della tortura nel nostro Paese. Non solo nel nostro Paese, perché si parla anche della tortura dei Gatti, della delega dell'anno scorso, quando Cominiti si è di fatto delegato alla Libia, alla gestione del partente dei migranti verso il nostro Paese e di quello che succede, cosa che lo nota tutti a parte il ministro dell'interno degli ultimi due governi, nella Libia oggi. Con noi ci sono Maria Luzi Manegato che è psicologa, che appunto si occupa di psicologia della violenza, con lei, ha presentato proprio in questa riferia parecchia anni fa un testo di una ricerca su la venivente a Genova. C'è Enrico Zucca che è pubblico ministero, è stato pubblico ministero, adesso il procuratore generale è aggiunto, credo, obbicario, sostituto, sostituto. A Genova, soprattutto, a proposito di Genova, è stato pubblico ministero di molti dei processi politici legati alle violenze della polizia, dei carabinieri, dei guardi di finanza, non so se è anche la forestale, forse in qualche modo indicata, ma ricordo di una situazione anche legata alla forestale durante le giornate del G8 di Genova. Francesca Moretti, presidente dell'Associazione dei Posti Romanti, che ringrazio per essere qui. Stasera finisco con Andrea Bocchini, che è vicepresidente dell'Associazione Federico Dorani, che farà un saluto subito dopo che riannuncio che ci sarà anche Michele Passione che in ritardo è sul treno e sta arrivando, Michele Passione è un avvocato, è membro del direttivo della società della ragione e si occupa di questioni in particolare del carcere, ma anche legate sulla tortura e in questo testo fa un'analisi giuridica molto puntuale sulla cosiddetta norma della sua tortura. Passo la parola ad Andrea per la prima saluta. Buonasera, grazie a tutti di essere qui per partecipare. Farò una breve introduzione riguardo il teatro di tortura e il teatro di tortura e come riguarda la nostra associazione. La nostra associazione nasce in seguito alla morte di Federico Trovandi nel 2005, fermando i quattro centi di polizia. Prima eravamo un comitato che chiedeva verità e giustizia a finire dei tre gradi di processo con la sentenza della cassazione che vedeva che in quattro agenti accusati in via definitiva di omicidio non avevamo più motivo di chiedere verità e giustizia perché tre tribunali ce le avevano date. Da lì ci siamo costituiti come associazione e abbiamo cominciato a sostenere le altre vittime che morivano, o anche chi è nato vivo, grazie al cielo, di abusi di forze dell'ordine. Come associazione abbiamo spettato che ci sono tanti casi di questo tipo purtroppo in Italia e anche se è omicidio alla fine prima si viene torturati. Questa è perlomeno ogni interpretazione come nel caso di Federico, adesso nel caso di Magherini che la cassazione al contrario di noi ha già dato le precedenti due sentenze che avevano visto accusati e intervenuti, la cassazione ha ritenuto che non c'è in realtà. se qualcuno ha visto il video di Riccardo Magherini come viene ammazzato per strada, soffocato, implorando aiuto e chiedendo cosa state facendo io e un figlio è qualcosa di veramente doloroso. allo stesso modo è morto Federico, cioè con lo schiacciamento toracico e soffocato. Sono state le volte, hanno state queste persone, lo schiacciamento e il soffocamento. Quindi questa è tortura e noi come associazione ci siamo sempre spesi per chiedere l'introduzione del reato di tortura. All'anno scorso, nel luglio del 2017, è stata introdotta dopo che il senatore Marconi da anni chiedeva aiuto delle associazioni di questo reato, di introduzione di questo reato. non è stata una legge proprio, a mio avviso, è sempre una dichiarazione personale, però a mio avviso non è stata proprio una legge ben fatta per limitare questi amusi. Comunque sia ci si impegna per andare avanti. Cerchiamo adesso... L'anno scorso quantomeno gli anni precedenti c'erano dei governi che sembrano almeno un po' favorevoli ad aprire una discussione, un tavolo di questo tipo. Il governo attuale è sempre tanto disposto a parlarne ma è dato che ha sostituito, ha sostituito il tavolo del senatore Marconi con una regista che il suo posto ha preso una regista che voleva incendiare i campi no, quindi non penso che sortirà lo stesso modo. Comunque, questo è quello che facciamo noi, voglio introdurre la discussione sull'attortura. Grazie. 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 Io passo la parola a Maria Luisa, a Maria Gatto, che questa è una rivista durifica, che si occupa una fondamentazione di legge. Lei è psicologa e così ci può spiegare il perché di questo approccio multidisciplinare che è stato questo... Grazie. Allora, buonasera e vi ringrazio veramente tutti di essere qui questa serata, con tutti e anche dei datori più presenti. E ringraziare il Cile e la città di Ferrara perché è una città coraggiosa, perché essere qui stasera a parlare di fortuna non è facile. Quindi ringrazio la città, ringrazio i cittadini che hanno voluto, in un certo senso, assistere alla presentazione, ad ascoltare ciò che viene detto attraverso questa rivista. E perché non è facile parlare di tortura oggigiorno? Perché noi proveniamo anche da un percorso davvero molto faticoso. Il nostro percorso inizia dal G8 di Geroman, a caso Leonardo prima lo ricordava, ed è sfortunatamente o grazie a quell'evento che parte anche degli autori che poi sono convolati a scrivere questa rivista, si sono in un certo senso accumulati assieme per poter poi fornire una risposta perlomeno adeguata alla propria cittadinanza e alle proprie istituzioni. Istituzioni che però si sono rivelate molto sorde nei confronti dell'applicazione poi di una legge di un reato. Sapremmo vedere che durante il G8 di Genova, negli anni successivi, i processi stessi sono stati molto difficili proprio a causa della mancanza di un reato nel nostro percorso, quindi tutti i reati sono stati spettettati, ma poi comunque qui c'è un segno di grande giustizia nel nostro paese e è stato anche tentato, diciamo così, di rimuovere l'evento da una storia del nostro paese che ahimè non può esserci. Quindi in un certo senso chi poi è stato costante nel prendere gli eventi e nell'apportare il proprio contributo come professionista e come studioso, si è ritrovato poi in due eventi recenti, come è stato un convegno dell'opera generale nel 2016, che se non ricordo male si intitola a legalizzare la tortura e l'anno successivo quando si stava accadendo che questo reato iniziava in un certo modo a essere in via di approvazione, abbiamo riorganizzato un convegno poi a Roma per cercare anche di smobilitare non solo l'opinione pubblica ma anche le istituzioni stesse, apportando ovviamente la nostra conoscenza sul campo. Quindi in un certo senso sono stati dei elementi che ci hanno canalizzato nel dire, va bene, abbiamo un reato che è stato provato con molta difficoltà, è un testo di legge che non ci soddisfa sotto molti punti di vista, diamo una risposta per iscritto affinché i professionisti che poi si dovranno trovare ed operare a contatto con degli altri signori e che saranno di disciplina della tortura, vi ricordo che la tortura non è una pratica violenta e non esiste, anzi e anche in ambito democratico può accadere che ci siano episodi di tortura. Ho fatto l'esempio di Genova, potrei fare l'esempio anche nel cancele di Asti, avvenuto qualche tempo fa, che testimoniano che anche in un paese democratico esiste questa forma di coercizione esterna. Attenzione che lo Stato, anche democratico, usa la coercizione per in un certo senso stabilire l'ordine sociale e preoccuparsi della propria cittadinanza. È anche da dire che con lo Stato stesso si deve autodisciplinare e produrre del diritto affinché questo uso estremo della forza e della coercizione che si scrive all'interno degli atti di tortura non avvengano, o quando anche avvengano, siano disciplinati affinché si renda giustizia. I fatti di Genova e i fatti anche successi successivamente con dei casi poi che io posso dire sono diventati patrimonio della cultura italiana, ci piace dirlo, sono dei casi come Patrizia con Federico, potrei citare Stefano Cucchi, potrei citare Maglini, potrei citare molti altri, si scrivono in dei casi che non sono singoli e appartengono diciamo così al privato della vittima stessa e sola, ma diventano patrimonio di una cultura, di un modo di operare e di una democrazia. Quindi a fronte di questo una buona democrazia dovrebbe portare il rinocchio. E se questo non accade, almeno dire che non siamo una buona democrazia. In un certo senso, al nostro avviso, la risposta che volevamo dare attraverso questa rivista è proprio di dire che all'interno del reato di tortura c'è qualcosa che continua a non funzionare. E lo diciamo apertamente. È anche vero che abbiamo voluto, in un certo senso, richiamare un aspetto multidisciplinare perché quando la violenza estrema riguarda l'umano non possiamo dire che sia solo una parte giuridica, bensì una parte che passa attraverso altre visioni e che ampliano, in un certo senso, la comprensione dell'umano stesso. Perché ad esempio nel reato di tortura si parla di trauma psichico, quindi bisogna chiamare in causa con le scienze psicologiche, ma si parla anche di una pratica che corre attraverso il tempo e quindi abbiamo chiamato in causa una filosofa Marina Lalata Posterbosa e quindi abbiamo cercato di dare una visione più ampia del solo aspetto politico. ma anche per un'altra questione, perché crediamo che oggi il giuridico e il diritto sia investito di una mission che vada di là del giuridico stesso e mi spiego bene. Quando accadono questi eventi che riguardano cittadinanza e stato, istituzioni, in ambiente democratico, si crea una sorta di frattura, una frattura che noi abbiamo denominato, ancora negli studi, diciamo così, iniziali, quando iniziamo a studiare le violenze estreme del G8, psicopolitica. Una frattura che riguarda un sentimento per un asilo di sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni. Naturalmente, non sto dicendo che per tutti deve essere riusciti, ma per una larga parte della cittadinanza significa che va a cadare la fiducia nei confronti di uno Stato e delle sue persone incaricate di gestire il potere, perché si sente comunque il ferito. Qui abbiamo una serie di vittime, le vittime diciamo più dirette, le vittime primarie, che si sentono ovviamente lesi primariamente di questa violenza estrema, però ben ricordiamoci che avevano anche delle vittime indirette, ovvero la famiglia, ovvero gli amici, fino alla comunità più estesa. Quindi quando accade un fatto di tortura in ambito democratico, accade ciò che poi il diritto viene investito in sede giudiziale di rivendicare come un perforzo di verità e giustizia, che non è facile delle vittime entrare in questo processo, ma che assolutamente dovrebbe arrivare ad un finale al dietro fine, un finale nel cui i diritti vengono riconosciuti pienamente da chi è stato leso nel diritto, in questo caso la persona torturata, la persona sottoposta violenta oppure che perde la vita e i suoi familiari. Quindi in questa arena, diciamo così, giudiziale, diciamo così che il diritto dovrebbe restituire giustizia non solo alla persona coinvolta e ai suoi familiari, ma anche alla comunità ed è questo un po' che la comunità si aspetta, ossia di arrivare alla fine di un procedimento e di un processo dove le verità sono state acquisite e dove viene fatta giustizia. E questo vediamo che spesso non avviene. Non avviene e, ahimè, lascia ulteriormente nelle vittime e nella cittadinanza un profondo senso di amarezza, ma che va ad aggravare quella verità, diciamo, che si è creata all'origine. Ora, nel nostro paese il G8 è diventato un patrimonio culturale e con esso alcuni casi anche che si sono verificati più da nel tempo. E che cosa è successo a fronte di questo? Che malgrado i successi ci siano stati e vi sia stata poi da parte dell'accelo l'intimazione di raggiungere un'emanazione del reato, diciamo che la frattura si è poco colmata, quella frattura di cui io vi accennavo prima psicopolitica. Può essersi, diciamo così, ricomposta a livello di comunità perché molti fatti sono stati accelerati, perché comunque si è dato, è stata una verità che poi è stata condivisa da più metri di uno stesso paese, di una stessa nazione. Tuttavia il piano politico non ha propriamente dato delle risposte adeguate perché il piano politico, anzi, ha lavorato in un clima di rimozione di quanto stato, in un clima di silenzio, ha dato delle promozioni, non ha contribuito a creare una giustizia per tutti e non ha nemmeno, diciamo, nemmeno stato alla parte delle vittime per sostenere in un certo percorso che ricordo dura anni ed è molto faticoso sostenere da questo punto di vista, proprio da un livello psicologico. Quindi da un punto di vista politico quella ricomposizione di frattura tra stato e cittadinanza non c'è stata. E a nostro avviso anche di studiosi questo reato, questo testo sulla tortura poteva essere un'occasione per dimostrare che siamo una buona democrazia e l'istituire fiducia nell'operato dello Stato, delle sue forze dell'ordine, a tutela dei cittadini. Questo purtroppo non è arrivato a nostro avviso. Questo è stato approvato un testo di reato di tortura molto complicante e ci chiediamo che il testo sia così, perché ci sono state scritte delle parole che poi alla fine, se vengono interpretate dal punto di vista giuridico, psicologico e qualcosa d'altro, che vengono con il verificabile tramo psichico, andiamo a vedere che non è una legge per la cittadinanza, non è una legge contro la tortura ma forse è una legge che, anzi, mette il cittadino in condizioni di dimostrare che è stato una violenza estrema ancora con molta più difficoltà. E quindi da questo punto di vista non potevamo stare in silenzio, ci siamo schierati e abbiamo deciso di dare alla luce questa pubblicazione, è la prima, siamo solo all'inizio, non so se il nostro percorso poi di collaborazione le darà vita ad altre, ad ogni modo abbiamo pensato di poter scrivere mentre nel servizio della comunità dei professionisti qualcosa in cui noi credevamo e ci crediamo ancora, perché la sfida di oggi è comunque essere una buona democrazia, se possiamo contribuirlo, esserlo, noi ne siamo qua proprio per questo. Io ho pregiornato, lascio la parola a Patrizia, se mai poi intervengo su alcuni punti che possono apparire o vedete troppo velocemente, a ogni modo cedo la parola. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 l'idea di come si è stata impostata la mente e questo capovolgere l'order della prova e la colpa da chi fa violenza a chi subisce la violenza è un elemento di comunanza di tutti i casi di violenza da parte delle istituzioni. A partire a Telerico, pensiamo anche a Lini, pensiamo a Uba, insomma è un, pensiamo ai famosi pep bloc che sta dietro la sua Diaz ed è un altro punto che ritorna sempre. Con questo, diciamo, fare la parola a Patrista che ha appunto l'opportunità di dare un'occhiata alla rivista e di provarsi più sopra. Grazie a tutti. a quello che ci riguarda e quello è comunque credibile tortura. Ovviamente io non sono in condizione di dare un indizio scientifico, però credo che posso assolutamente testimoniare che quello che hai detto, compagno, che la tortura va bene oltre le vittime primarie, ma si estende al contesto della famiglia e degli amici. lo viviamo, l'abbiamo vissuto e lo vedremo tutta la vita. E non è una cosa di cui ci può essere soluzione. Perciò abbiamo seguito l'intera della legge, abbiamo visto nel corso del tempo quanto sia stata via che sfalciata di ogni elemento anche semplicemente dell'intera della legge, non so come si è stato fatto un lavoro fungiglioso e puntuale per svuotare una normativa che in realtà da tanti, da noi in particolare, da molte persone, non so come era attesa veramente, perché ci siamo sempre sentiti piuttosto intesi e risposti, sia nelle fasi del processo principale, ma anche poi nelle fasi successive, quelli che riguardano la famiglia e comunque la persecuzione, cioè la persecuzione di tutti coloro che chiedono justizia, da parte di qualcuno che si pone, diciamo, all'attere dei diputati principali, responsabili, poi condannati per l'omicidio di fedelito, ma c'è tutto un contesto laterale che in realtà ci ha inseguitati e molto spesso continua a farlo. L'unica soluzione per noi è sottrarci ad un punto diretto che invece abbiamo forse voluto continuare nell'ansia di costruire qualcosa di migliore e di quello che abbiamo scoperto, cercare di lasciare qualcosa di meglio di quello che ha scritto Federico, però questi attatti trasversali in realtà non sono computabili, perché comunque non hanno argomenti sostanziali, non puoi battere con la logica, non puoi, non gli importa nulla al TOIST che è venuto a manifestare sotto l'unificio del fatto che le sentenze fossero state chiare, descriptive, definitive, continuano a dire che Federico è morto perché era drogato, le sentenze e le analisi hanno detto che non era vero, ma loro continuano a ripeterlo e non c'è soluzione, con questa gente non ci può essere dialogo, quindi io ho smesso. La realtà però è purtroppo che queste persone, in particolare Gianni Tonelli, rappresentante apicale del SAP, che è il sindacato che approdì in occasione del processo della, non del processo, della, no, è stato quando la, per la sanzione, per la gestione della pena, come si chiama la, come si dice, mi viene la parola, comunque non è stato approdito i responsabili della morte di Federico, e lui era il responsabile di questo sindacato, ha costruito su questo e su altri punti la propria campagna elettorale, ma adesso è tutto il Parlamento di Polonia. E comunque abbiamo visto qual è la linea di chi gestisce adesso il Ministero dell'Interno e la politica. Non ho visto, da parte del Ministero dell'Interno, finora, un'espressione precisa riguardo ai casi, ai singoli, a parte le notte di gente che è su Bucchi, no, che il Ministero dell'Interno ha invitato Ilaria Bucchi quando vuole presentarsi nel suo ufficio, dopo averla insultata in altre occasioni. Secondo me, Ilaria ha fatto bene nel rispondere che se il Ministro vuole avere un dialogo con lei, forse l'invito doveva essere imbattato, forse il Ministro che avrebbe dovuto presentarsi e la chiedendo scusa per gli insulti che le ha fatte. Però noi andiamo su un altro terreno molto importante, lasciamo stare. Parliamo di noi, parliamo del fatto che comunque questa trattura continua ad esserci, anche nelle accezioni più, meno scientifiche, più semplici, che sono semplici, tra virgolette, che sono comunque una violenza esercitata in modo pesante, cognitivo, su molte persone fermate, molte persone in posizioni di debolezza, in quel caso Federico era debole, perché era 1.4, era un ragazzo che tornava a casa, non aveva commesso alcune atto, però qualcosa ha scatenato nei quattro polizioni di una violenza che socia anche la tortura. Tante le definizioni di tortura, perché nella legge mi sono chiesta molte volte se quei quattro polizioni volessero indurre al silenzio, che dico, rispetto a qualcosa. Questo dubbio non è mai sbagliato, in realtà. Per torno a superparlare di questo, perché è un danno che continua a odermi, scusatemi se entro in questo dettaglio, però secondo me Federico li ha desattissimi, visto che loro erano niente al parchetto, è qualcosa che non avrebbe dovuto raccontare, forse era successo. A me resta questa idea, e purtroppo è stata difficile avere una conversazione diversa, perché comunque la chiusura a riccio dei responsabili della Banca di Federico, così come dei loro colleghi, che hanno desinato veramente i testimonianti quando non sappiate prove, come in molti processi, non ci farà chiarete su quello che è accaduto. A proiezione della distanza resta questo, resta che abbiamo perso Federico, e Federico non ritornerà, i responsabili invece sono di conoscenze. e mi spiace veramente tanto, come dicevo ieri, per significare che queste cose possono ancora accadere, che non abbiamo, nonostante questo, quello che è successo a Federico e quello che è successo agli altri, non abbiamo una difesa da chi ci dovrebbe dipendere. Questa è la realtà qua. E così io non posso dire, e mi ringrazio, perché adesso io mi imposto. Grazie. 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 Grazie per aver guardato, non solo qui stasera, ma questi anni. sappiamo che di cosa è nato, e per cui ti ringraziamo. Grazie. 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 questo argomento il professor Fugiotto lo faccio anche per ringraziarlo perché lui l'artefice di questo incontro di stasera purtroppo era impegnato in un convegno non mi ricordo dove anche lui per cui non è potuto essere più conti Michele Passione insieme al suo Cagnonato cita nel suo saggio un passaggio di Andrea che giuro leggere che appunto confuta questa ipotesi nel prescrivere ciò che deve essere unito l'articolo 13,4 comma della Costituzione fa riferimento a ogni violenza non diversamente dall'articolo 1 della Convenzione Odu del 94 che vieta qualsiasi atto di tortura sono due mirabili singolari che bastano a smontare il suo film ma secondo lui un singolo atto di tortura non sarebbe tortura ma solo un suo inocchio tra Michele Buonasera a tutti grazie per avermi invitato mi scuso per il ritardo ma il treno si è perso in aperta campagna e non è difeso da me sono contento di essere qui perché sono tanti anni ormai che giriamo con alcuni amici anche più presenti Enrico Maria Luisa ed è un po' una compagnia di giro quella di quello di cui ci sono messi in testa all'epoca strane idee cioè quelle di provare a avversare non già l'introduzione del reato che è appunto l'unico reato costruzionalmente necessario quanto piuttosto questo simulato di normativa che ci siamo dati rispetto alla quale in maniera assolutamente a tecnica perché sono consapevole di essere in una libreria ed è molto preziosa l'occasione di interlocuire con persone che non sono dei tecnici che mi guardano bene da affrontare i temi tecnici che sono numerosissimi che applicano questo questo testo quindi vorrei provare a consegnarvi diciamo alcune delle ragioni che ci hanno visto contrarie all'introduzione del nostro ordinamento di questo tipo di reato che meritano e merita rispetto che si deve alla introduzione io sono l'argomento penalista non mi piace mai quando si introduce un nuovo reato ma essendo l'unico reato costruzionalmente necessario avrebbe meritato diverso trattamento anche perché l'Italia ha ratificato senza riserva la convenzione ONU e dunque a quella convenzione bisognava guardare come esempio di riferimento dignità e indignazione sono due parole che hanno a che fare con la tortura e condividono un etimo similare si dice la tortura è un reato che appunto offende la dignità dell'uomo e dunque si individua la dignità dell'uomo quale valore assiologico che sta dietro la ragione di questo reato è senz'altro vero dal mio punto di vista è abbastanza pericoloso perfino quando il valore è così alto è un valore sul quale la Costituzione tedesca fonda all'indomani della tragedia dell'Orocausto e di tutto quello che sappiamo fonda la sua ragione d'essere noi sul lavoro sulla dignità dell'uomo ma è pericoloso maneggiare diciamo un tema assiologico così ulticante così importante per l'uomo quale la dignità perché il rischio è di pretermettere anche senza rendersene conto altri interessi che sono di rango costituzionale penso al diritto di difesa che va conferito anche a colore quali saranno domani e speriamo sempre pochi speriamo mai sotto processo per reati di tortura non si deve cadere nella tentazione di dire siccome questo è il reato dei reati abbassiamo la soglia di Nutella o scriviamo male è esattamente quello che si è fatto con questa legge si è preteso quello che la legge della Commissione Omo e tutte le parti internazionali non pretendono la reiterazione delle condotte quando il fatto è fermato di una per bocca voce dal senturgita di una parlamentare della Lega Nord di cui volontariamente non ricordo non vi ricordo il nome io lo ricordo perché non voglio conferirle il disonore che meritava quella proposta che invece è diventata legge dello Stato per la non più l'altra maggioranza di governo che oggi non c'è più e non a caso non c'è più la reiterazione delle condotte facendo rivoltare nella tomba non solo Kant ma tutti i quali hanno evidentemente cognizione piena di cosa vuol dire tutelare la dignità dell'uomo una volta si può non si può dire non si può pretendere che quello che è un fatto di reato è che è un reato istantaneo diventa un reato abituale soprattutto quando appunto stiamo parlando del reato di tortura costruire costruire un reato a forma vincolata cioè non a forma libera vuol dire migliorare quelle che sono le più moderne tecniche di tortura quelle no touch quelle che fanno male senza toccarti quelle che costringono la posizione naturale quelle che ti privano del sonno quelle che ti privano del cibo eccetera eccetera ma ho detto non voglio soffermarmi sulle cose tecniche perché sarebbero troppe forse un po' incomprensibili se qualcuno ha voglia non è promozione perché ha denunciato pagato per questo e non ce ne viene niente ma insomma visto che la rivista è una piacevole sorpresa trovare l'imperio oggi perché io non l'avevo ancora vista c'è e se qualcuno se la compra magari troverà messe meglio le cose che per quanto mi riguarda gli ho scritto con una straordinaria collega più brava e più bella di me ma ci vuole poco e quindi davvero non posso che condividere con lei mi piacere trovare su questo tavolo questa rivista vorrei invece provare a farvi riflettere sul fatto che si è detto insomma che quasi reverente che io citi a Nare della banalità del male è qualcosa come dire che dobbiamo mettere accanto anche a quella che una volta era la cultura come strumento ad eruendam veritatem oggi non si tortura più ad eruendam veritatem o si fa in altri luoghi lo si fa perché non si ha cura dell'altro perché non si ha rispetto dell'altro perché si disegna una relazione verticale piuttosto che orizzontale che mette in testa qualcuno che ha una strana idea dell'ordine della legge che si possa fare ordine e legge carando dall'alto il senso di una relazione cittadino-stato invertendo in una costituzione che si dice repubblicana che ha diciamo rovesciato il paradigma per il quale è lo stato che è stato per il cittadino quel rapporto che lo ha fatto diventare altro per questo questo reato bisognava che fosse il reato proprio non perché siamo contro le polizie io ho una figlia adolescente e mi piace pensare che quando non è a casa la sera se incontra un polizotto con il polizotto lei ha qualche problema e sono sicuro che sia così la aiuti piuttosto che invasilirla e dunque non è contro le polizie ma è per una buona polizia che noi abbiamo difeso una norma che aveva il compito di nominare l'invigibile ma non al dispetto dei santi aveva il compito di fare in modo che si potesse pronunciare la parola e si potesse pronunciare la parola dando a quella parola il peso e la dignità che si porta dietro invece abbiamo mescolato tutto torture e trattamenti umani degradanti che sono due cose diverse pur ricomprese nell'articolo 3 della Convenzione Europea di Dio che è uno dei quattro corraizi inderogabili sempre anche in tempo di guerra anche quando è stato in Francia dopo ci avendo si è sospesa la Convenzione Europea di Dio dell'uomo ma non si è potuto sospendere l'articolo 3 perché l'articolo 3 è semplicemente una norma inderogabile con la quale non c'è 11 settembre che tenga non c'è stato di polizia che tenga non c'è stato di eccezione che tenga c'è dunque il rispetto della persona ho visto qualche giorno fa e siccome stiamo in libreria mi pare mi pare mi pare non so se dire in ultimo insomma forse molti dei poveri l'avranno visto ma insomma un film che vi consiglio che è Menocchio che è un film straordinario e che racconta la storia di un mugnaio che nel 1599 viene mandato a Rocco dopo essere stato la prima volta processato dalla Santa Inquisizione e poi liberato dopo essere stato incarcerato e torturato in quanto eredito Domenico Scandella da Montereale c'è l'inquisizione che come dire si sofferma sulla schiena sul corpo e sulla testa di Domenico Scandella del Domenocchio ad ero e di la verità non vogliono sapere chi mi ha messo in testa stranile ma c'è anche l'esercizio di un potere che all'epoca era quello che ho chiamato e non solo che ho chiamato ma era un potere che per fortuna almeno qui da noi non viene declinato in queste forme ma in forme più stupide più ottuse e quindi ancora più c'è una proteggia che è ancora più difficilmente comprensibile diciamo quella accadimento è un accadimento che a un certo punto smette di essere perché anche loro anche gli stolti inquisitori dell'epoca capiscono che Menocchio è un uomo libero e un po' folle e nessuno deve chiamare la testa grossa che aveva quelle strane idee che loro non capivano e quindi c'è semplicemente l'accanismo sulla come dire sullo scritto libero che a qualcuno che qualcuno propone con comportamenti bizzarri anche con comportamenti ortodossi ma quando una persona andiamo da un'altra parte ma è sempre tortura di tutto come stiamo parlando viene legata a un letto e rilasciata per 11 giorni perché è un personaggio un po' bizzaro che in una comunità locale un po' chiusa non si capisce bene che ruolo giochi ma è il soggetto del mondo la stazione ha depositato una sentenza molto approssimativa ma che ha il pregio di definire extraordine la contenzione non riconducibile a comportamento di tipo medico qualche giorno fa lo ha fatto ecco quel soggetto viene evidentemente sottoposto al testo dopo il quale muore non aveva non aveva eredico non aveva colpe altri hanno avuto il troppo di passare in posto sbagliato al momento sbagliato non si voleva cacciare di bocca veritario credo così va perché si immagina che in una relazione come dicevo verticale piuttosto che orizzontale ma è una relazione che poi non trova il corrispondente nella norma perché non c'è il reato proprio possa essere declinato il rapporto così tra cittadino e Stato è andata così noi abbiamo cercato di dire di trovare le parole per dirlo lo abbiamo fatto in tutti i modi lo facciamo ancora oggi consegnando ma anche se è andata questo testo a chi vorrà leggerlo perché lì dentro troverete se qualcuno avrà appunto voglia di leggerlo le ragioni per le quali la nostra versione non era evidentemente contro l'introduzione dell'abriotruttura era perché fosse un reato che somigliasse alle ragioni per le quali l'Italia di 1988 quindi parliamo di 30 anni fa scusate non sono molto bravo ha ratificato una convenzione neolo che portava l'abriotruttura che portava la data abbiamo aspettato moltissimo tempo e questo non è un buon prodotto finale in questa legge e poi terzo perché Enrico ha cose più interessanti delle mie a differenza alla mia che in qualche processo per fatti come questi ma più modesti quindi più per certi versi più comprensibili testaggi in carcere e cose di questo tipo li ho fatti io perché tanti episodi che forse non starebbero dentro il reato di Tocchina ma starebbero dentro in qualche specie sì insomma i fratelli non diciamo così Enrico come saprebbe che si è occupato invece diciamo della più grave sospensione della democrazia dopo la seconda vora mondiale che mi ha definito Amnesty International infatti di genere ma quell'Amnesty International che pure invece con il nostro enorme supporto ha detto che questo reato a qualche intervento poteva essere trasferito nel nostro obiettivo è stato un momento di grande dolore per noi sentivamo di avere in Amnesty diciamo un riferimento anche culturale politico ideale ma diciamo che ce la siamo letta non so se ci siamo chiariti ma insomma per chi avesse voglia abbiamo scritto con alcuni dei presenti un libro che aveva preceduto questo e Antonio Marchesi che è il presidente di Amnesty International aveva messo per iscritto su quel libro che se fosse stata varata la legge che oggi abbiamo cioè se fosse stato scritto che per culturare vi la fanno due volte come se si dicesse per rubare vi la fanno due volte che non è reato se lo ammazzo uno ma lo do ammazzare due e le bestialità di questo tipo Amnesty International è stata contraria e poi si vede che ha cambiato idea solo i cretini non cambiano idea però insomma bisogna demotivare il problema comunque è andata così quello che volevo dire però che appunto è andata così e allora oltre che diciamo le soluzioni giurisprudenziali rispetto alle quali non vi annoio perché davvero sarebbero difficilmente trasferibili in questa sede si può fare e si deve fare molto poi molto che la legge non prevede intanto parlarne la legge non può prevedere che se ne debba parlare in una libreria a Ferrara evidentemente ma parlarne fa sempre bene poi formazione mi è capitato di fare formazione alla polizia penitenziaria su questo tema perché è importante che una polizia si misuri con questi temi e magari non venga dotata del teser in carcere o per le vie di Ferrara o come nella mia città a Firenze a cui è stata data la polizia di teser alla polizia alla polizia di Cipà di teser uno strumento di tortura e in carcere le armi non ci devono stare né da parte né dall'altra bisognerebbe fare quello che la legge non prevede conferire protezione anche economica alle vittime di tortura noi noi andremo in procedura di inflazione perché abbiamo un decreto legislativo che ha quattro cinta di recepire la direttiva in materia di arrestoro per le vittime da reati violenti e la tortura è operato violento ma non è previsto da questo decreto dovremmo fare indagini efficaci noi siamo stati condannati ripetutamente dall'accento non solo perché non l'abbiamo operato ma perché le indagini non erano state volte all'individuazione dei responsabili e una volta individuati alla loro sostenzione e all'emozione dal servizio tutt'altro queste persone sono state promosse quindi diciamo di questo stiamo parlando dovremmo prevedere la impossibilità di conferire a queste persone istituti premiati che invece ci sono sempre dovremmo rendere evidente o meglio più semplice l'identificazione degli autori che si tratta attraverso strumenti che in tante polizie di questo mondo ci sono parlo dei numeri identificativi e quant'altro ci sono una serie di cose che si possono fare a legislazione variata che si sarebbero dovute fare rispetto alle quali forse si potranno tentare incidenti di costituzionalità e quindi faremo perché altrimenti tirate qualcosa dietro però insomma credo non abbia più molto senso spiegare perché o forse sì ma lo so le cose andavano fatte diversamente adesso bisogna verificare almeno da parte di chi ha la possibilità per farlo anche al lato pratico andando in un'aula di giustizia io ho fatto un'edizione se è possibile provare a cambiare alcune cose avendo l'assoluta consapevolezza che è un momento buono è un momento di profono che la situazione che viviamo come dire rende per tenersi leggeri cauti all'organismo e non rischiare niente molto complicato misurarsi con una classe politica soprattutto di governo ma vuole dire classe politica perché poi questa roba qua l'ha portata alla sinistra con la destra quindi diciamo non ha particolari genitori che possano rivendicarne la genesi tutti insieme allegramente in commissione giustizia dal PD alla lega rosa come si chiama hanno avutato questa porteria e dunque se di questo stiamo ragionando dobbiamo anche tenere presente che abbiamo davanti non solo un governo fortissimo che ha questa strana idee ma una posizione inesistente che non ha nessuna idea e dunque le uniche idee che possiamo farci vedere sono quelle che provengono dalle persone che decidono di occupare un paio d'ore del loro tempo più o meno prossimità del Natale in un posto bello molto bello dove la testa si ossigena un po' non tanto sentendo le cose strampate io volevo dirvi che mi ho detto male perché insomma è un po' difficile provare a declinare le connessioni e tante sempre troppe avendo di fronte un pubblico di persone che non si conosce ma perché le cose da dire sarebbero tante mi fermo qui e dico che è molto più interessante da sentire perché si vengono credo anche un po' di dato terreno per fare cose un po' qualche istante che io ho provato a dire ti ringrazio applausi 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 che ricordo che è stato il magistrato un pubblico mistero che è studiato adesso studiato di Bonfaneto lo dice chi per poco per puro a casa se non c'è qualcun'altro in questa sala non ha dormito quella notte dalla scuola di e ha dovuto fare i conti con l'assenza del nostro corrispenale di QRA pur come ricorda nel suo scritto e rivedendo la partispecie della tortura a lui quindi ha il compito di spiegarci come dovrebbe essere una vede sulla tortura e perché serve la grazie gli organizzatori e grazie a tutti i presenti me ne vanno dopo questa introduzione perché la domanda al sistema posto, di sopra le aspettative che pure anche dell'altro non mi passivano, che in realtà sarà più monso, o meno più aetro del suo. Io faccio una considerazione, faccio parte della compagnia per agli professionali. Io ci tendo a sottolineare il fatto che quando partecipo a questi temi, quando mi affronto questi temi, faccio infatti un magistrato, cose che cerco di dire, provendo proprio dall'esperienza professionale, questo è il punto che mi è stato qui, non è stato teologico, non è stato studiato, però l'esperienza professionale è quella che è nuova, fa l'impressione anche quindi a parlare di qualcosa si dovrebbe parlare. Una volta che ho provato a parlare, in realtà mi è andata molto male, nel senso che ho avuto in un'occasione pubblica, sulle relazioni piuttosto dure, in un attacco dei traffici della polizia, mi è malgrato, nel senso che ho sempre cercato proprio in quanto il magistrato di opporre e di leggere le vicende e opporre, diciamo, a alcune commentazioni le parole dei giudici. Quindi sono sempre tenute, nel caso in cui mi sono occupato, alle risultate, diciamo, alle parole finale e quindi le parole, si è judicializzate nelle loro sentenze. Chi in maniera benevolente mi perdona le cose dure, apparentemente che dico, lo fa invece chiamandosi si ha la libertà, ovviamente, di pensiero di una roba che ha il magistrato, ma quanto cittadino. No, io ci tendo a spionare le cose che dico e i pensieri che dico, proprio in quanto magistrato, in quanto cittadino. Proprio perché fa parte del lavoro, del lavoro di magistrato quello, come dire, di portare i principi, i valori che sono stabiliti nella Costituzione della Costituzione. Ovviamente quando si parla di queste cose, si parla di polizia, di portare l'ordine, si criticano, si criticano complessamente, non si parla, appunto, di eredità astratte. A volte si riferisce alla polizia, si riferisce alla polizia con l'istituzione, con la magistratura, no, qui noi se abbiamo criticato e sovente c'è materia per criticare, criticiamo comportamenti, cioè criticiamo polizia e anche la polizia, l'inverso, cioè la polizia, ma non le vogliono, noi non criticiamo l'istituzione, perché l'istituzione è ovviamente fondamentale, il complice che svolge la polizia e il portare l'ordine è fondamentale, essenziale, soprattutto di una società democratica. Io penso di fare questo come magistrato, però è anche vero, non me lo nascondo, che qualcuno avrebbe qualcosa da ridire, perché questa sera io sono venuto vicino ad una vittima, c'è la mamma che è in carizzo al dorante, nessuno avrebbe qualcosa da dire se il magistrato si sedesse accanto alla vittima di reati di mafia, un giuro, estruzione, anzi i magistrati sono venuti accerti quando parli di questi film, però credo che qualcuno dovrebbe estruzionare, perché questa sera io ho partecipato a un dibattito in cui ci sono vittime particolari, e questo è già il segnale del problema, è inutile non assombrerlo, diciamo, per presentare un lavoro collettivo che si è espresso in un numero di questa rivista. Inutile negarlo, ciò che accomuna gli interventi di questa rivista è la propria critica alla propria legislativa, che pure si è avuto nella scorsa legislativa. e questa posizione che ci accomuna contrasta con le posizioni che pure si sono avute anche da parte del piano tecnico dei principali commentatori della legge. Noi ci trapporremmo ad un atteggiamento che viene definito realistico, automatico, e quindi, in qualche modo, la nostra posizione sarebbe una posizione di estremismo stessa, insomma, in fondo, uno strumento ci è dato. è vero che il dibattito parlamentare, e accanto al dibattito parlamentare, anche in un'utile di pressione e associazione, il cui scopo è appunto la promozione, la fiducia dei diritti primari, hanno adottato questo approccio, appunto definito, pragmatico. Quindi meglio qualcosa che niente, inutile andare a cercare di ottenere l'ottimo, se in qualche modo il risultato sarebbe stato comunque quello di non adottare l'interno. Questa posizione, diciamo, di realismo pragmatico traeva sostegno dalla tormentata storia dell'approvazione della legge, cioè degli avventimenti, degli avventimenti, degli avventimenti, dell'implementazione della prima convenzione della politica politica. E, inutile nasconderlo, forse questo raccomandito trova un ulteriore sostegno, pensando alla storia qua. Quindi, si diceva, quella sarebbe stata l'ultima occasione per poter arrivare all'approvazione di una legge, con quella maggioranza parlamentare, con una storia di una legge che, se si fosse persa questa occasione, di dentro sulla cultura si sarebbe parlata, forse ancora, all'infinito. Possiamo ritenere a questo punto che avevano ragione quelle posizioni, quindi anche il nostro insistere, anche con questo contributo, è un insistere, appunto, sempre. Noi ci stiamo rullando un po' il narcisismo intellettuale, dobbiamo fare i primi visitori. Credo di no, perché l'occasione che era alla portata di mano, o che doveva essere colta, in quel periodo, in quel momento, si è persa. Perché la nostra codificazione, la nostra legislazione sul reato di Tortuna, si colloca in un contesto istituzionale, molto particolare, e si colloca innanzitutto in un contesto internazionale, in cui i diritti fondamentali, in particolare, i diritti fondamentali che hanno messo sulle posti a Tortuna, è stato realizzato. Però, in particolare, i diritti fondamentali, i diritti fondamentali, infatti, perciò, la Tarta del Torri Gemelli ha aggettato quella che noi vogliamo, che ne vanno ad essere, un grande democrazio occidentale, ha aggettato questo evento in una situazione di incertezza e di paura, che l'ha condotta a rilegare apertamente i principi su cui si fonda anche i valori su cui si fonda la restituzione di quella nazione stessa. Stato parlando di Stato Uniti è l'utile di portare quegli eventi e quel percorso buio che i Stati Uniti hanno il percorso di sostanziale l'estimazione della tortura. Questo percorso è emerso, impresso e trova trattata anche nelle relazioni ai testi di legge del nostro Parlamento, e che menziona le torture o i maltrattamenti di Abu Ghraib, quindi riconoscono questo fenomeno. Ovviamente, senza riconoscere quel fenomeno, che sono anche parte della storia italiana, chiamano di noi, per esempio, ed è proprio sempre molto significativo, che esistamente i disegni di legge, che intervengono dopo le sentenze definitive, quindi i dettagli del G8 non menzionano questi bisogni come esempio di tortura e maltrattamenti, nonostante che erano dei 15 fossero state già piante. Quindi, se ci muoviamo in questo contesto che è descritto, in alcuni, anche io, in questa rivista, in cui quei valori che sono programmi non sono poveri praticati, sostanzialmente si ammette che è possibile derogare quei principi in stati particolari, cioè quando la vita della nazione, il pericolo, a questo punto, l'ultima delle qualificazioni, cioè la nostra, avrebbe dovuto scogliere l'occasione per ribadire invece la fermienza in quel principio, la fermienza di una pittella in quel principio. così non è stato, perché la nostra legislazione ha ceduto a quella relativizzazione, ma di quei diritti che invece le Costituzioni, le Convenzioni, configurano come incontrimibili, quindi assoluti, ha ceduto, diciamo, a questa relativizzazione che molto esplicitamente ha bilanciato le esigenze della sicurezza e della difesa con la necessità di introdurre le armi di tortura, significativamente, configurando la razza e l'incriminazione della tortura, con l'appoggiante, in fondo, sul indietro che così incongenibile non appare. Ecco che, al di là, diciamo, del dato tecnico e della deviazione che il sapere del nostro disertore fa rispetto alla definizione di tortura perché la Convenzione impone, impone, intendiamoci come il minimo interrogato, la Convenzione impone la incriminazione della tortura che finisce in via generale, non necessariamente con un reatto specifico, ma i trattati impongono un obiettivo, lo fa la Convenzione Unica, lo fa in particolare, un po' di più, la Convenzione Europea di diritti dell'uomo, l'articolo 3, impongono l'obiettivo che è quello di reprimere, sanzionare duramente i fatti di tortura degli attrattamenti. Ovvio che, introducendo un reato specifico con pena adeguate, si assolve meglio, a questo punto, non è l'obiettivo assolutamente di un accidente. Ebbene, il nostro legislatore prende consapevolmente una strada diversa, e, innanzitutto, restringere, quindi, tante crisi, forse, naturalmente, è un fatto, ed è un fatto, si può dire, apertamente contestato, che si adotta una nozione di tortura più restrittiva della Convenzione Unica, di quella che suggerisce il cance a livello nazionale. E' la nozione di una nozione più restrittiva, quindi una nozione che lascia scoperta di certi parti di tortura, è attuata questa restrittiva, non per garantire una maggiore precisione di tassatività della norma penale, quindi non per l'esigenza di garanzia, si, perché, per oggi, per la definizione ampia di tortura, che c'è nella Convenzione, deve essere tradotta in una norma, a dei caratteri della piattazza della precisione di tassatività, quindi deve sapere, diciamo, che quale comportamento è punito e come sarà punito. A maggior ragione essere un comportamento punito in maniera grande, in maniera semplice. Ebbene, nella nostra legge, appunto, sceglie di restringere, quindi lasciare al di fuoco dell'operatività della norma, a lui. Non solo questo, ma va intraprendendo una strada che, ancora una volta, portate con l'intenzione delle convenzioni. Cioè, altro atteggiamento apertamente confessato, introduce il nostro legislatore reato, introdurre, non volendo, non volendo, intagliare un reato che possa essere inteso come specifico per gli abusi delle forze di polizia. Tutto il dibattito tra l'introdizione di un reato specifico, cioè un reato del pubblico di già, nelle convenzioni, la tortura è il reato del potere, il reato commesso dal pubblico, commesso dal pubblico, la violenza indistificata, commessa dal pubblico di giallo. Qui, ci è voluto intraprendere la strada di continuare l'apertura come un reato comune, cioè come un reato che può commettere attività, non nel senso di ampliare, soltanto nel senso di ampliare la portata, oppure ammessa, ovviamente, dalla norma convenzionale, ma con un dichiarato intento di fare questo per non dare impressione o per non criminalizzare il comportamento esclusivo delle forze di loro. Questo è un messaggio, è un messaggio, non solo, per come è continuato un reato, il legislatore non utilizza quelle tecniche che di solito usa per individuare ed esaltare la gravità operativa, non soltanto in termini di tempo, cioè la cura della sanzione e la sua quantità, quindi il minimo e il massimo di tempo, ma anche impedendo, ad esempio, l'operare del bilanciamento delle circostanze. E questo è un aspetto che si toglie e che è colto, per non dire, da chi poi deve essere destinatario della norma. Cioè, se mettiamo a confronto il nuovo reato, che avrebbe, come è stato ricordato, dovuto essere inteso, avrebbe dovuto essere inteso come della grafica, eccellenza, uno dei grafici più grafici, già con i termini di cultura, lì, uno stile negativo, che è appunto la storia che porta la natura, che porta le adiezioni, che porta questo comportamento male, non si può dire che l'ediatura abbia trattato questo reato come un reato grave. Questo non solo, confrontando i termini di tempo, ma questo reato, come si dice, non è un reato ostativo, ci sono dei reati considerati ostativi, che possono ammettere il condannato a benefici penitenziati, che impediscono il bilanciamento delle circostanze. Soprattutto ci sono dei reati che hanno termini di prescrizione molto lunghi. E se noi confrontiamo l'imposizione di questo reato con altri reati, notiamo che l'eseratore propone a continuare questo reato. Non ha voluto lanciare il messaggio che questo reato è un reato vero. Un paradossio che contrasta avuto con ragazzi delle discriminazioni. Ora, questo messaggio che viene dato è un messaggio poi che c'è il reato, è un reato che deve usare con molta parte e soprattutto è un reato che produce conseguenze più progressive. Quello che richiede le convenzioni, quello che richiede le interpretazioni, soprattutto quello che rappresenta, è che questo reato sia configurato o comunque la punizione dei fatti di tortura comunque qualificati sia tale da fuggere come deterrente per levitare il reiterare il reiterarsi dei comportamenti. Cioè, deve essere chiaro che gli abusi dei dettagli dei dettagli dei dettagli di tortura e maltrattamenti costano per chi li commette. E cosa vuol dire costano? che la pena una volta che uno è condannato deve essere seduta e soprattutto chi è condannato è la che alle forze dell'origine è un pubblico funzionario, deve essere sostenuto mentre è inviato un pubblico che è distribuito una volta che sarebbe come dire un po' lungo richiamare i passaggi tecnici di questi obiettivi collaterali che portano le convenzioni ma il richiamare la parte della mamma di Federico Giovanni questa come dire questo senso di injustizia che deriva dal fatto da rivedere comunque sempre in un testo troppo di polizia per i giocchi condannati per erati di questo tipo non è come dire una pretesa ed è o la disperazione dettata ovviamente dal dolore che trova una vita e le reazioni opposte non sono come dire reazioni che sono compatibili con questa isperazione da un dolore non istituzione questo è un tema fondamentale perché eh sono le convenzioni che impongono la destituzione eh dei condannati sono le convenzioni che impongono eh la negazione anche dei benefici eh penitenziari alle stesse e questa è tutta una parte diciamo eh che non sovegge ovviamente eh di cosa si dice di cosa si è detto diciamo non voglio ritornare non so se eh il problema che c'è stato per eh le mie dichiarazioni eh quando ho ricordato che Pia ha aperto la tortura eh oggi era in vertice della polizia o eh in uffici abicami della polizia di Stato eh e io ricordavo quello che è uno degli elementi che è costato alla comunità dell'Italia eh per il procedimento della Pia per il fatto della Pia uno degli elementi che costituisce una relazione della convenzione è proprio quella di non aver evrogato eh le sanzioni disciplinari attorniate che in questo caso eh sono eh indipendentemente la restituzione è ovvio che si può dire che la legislazione penale eh o la legislazione italiana che non consenta automaticamente quello che si può dire eh è anche vero però che le istituzioni hanno l'obbligo di eh assicurare quell'unità e quindi eh non è eh una come dire una rivendicazione che non sia essenziale eh nella 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 contare caso di questo genere eh e devo dire che eh da questo punto di vista eh non c'è nessun eh accenno nella legge eh della possibilità eh 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 condannaci le condanne eh adesso da condurre con tutte le garanzie eh quando si accetta la responsabilità per fatti di questo tipo eh una delle conseguenze eh doverose sia proprio quella di impedire eh alle persone condannate di appartenere a eh i corpi eh di polizia eh perché solo in questa maniera ritendo i corpi interpretando le convenzioni si evita il renderarsi eh eh qui eh come dire chiudo la riflessione eh appunto ricordando che al di là eh 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 quello che conta è eh è vero oggi invece eh si trova come strumento che prima non aveva cioè una nuova ma questa nuova ma questa nuova ma questa nuova probabilmente eh può lanciare il messaggio opposto a quello che avrebbe dovuto accompagnare eh l'introduzione di una normativa che errebbe messo eh seriamente eh non è un dettaglio eh che è tutto quello eh che è stato ricordato che è uno delle eh come dire delle criticità della legge più evidenti eh più evidenti eh cioè quello che la vittima eh eh deve provare eh eh nella sostanza perché accettare eh lo stato eh eh tra un ciclo verificabile eh in caso di sofferenza mentale eh significa che ha spostato davvero eh 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 sulla vittima eh ovviamente eh eh qui c'è eh si è dato ed è un paradosso ripeto gravidente si è dato ascolto al timore all'ansia affermato in Parlamento del poliziotto che eventualmente viene denunciato in questo questo stato d'anni di ansia che non permetterebbe al poliziotto di fare più eh con serenità il il proprio dovere eh ha prevalso sullo sconvolgimento che eh fatisce eh la vittima della tortura eh in un momento fondamentale e soprattutto una buona di tortura eh più difficile perché mentre le torture si sottolineano di violenze fisiche eh spesso hanno dei segni evidenti hanno le perinte hanno eh in qualche modo eh il traccio sul corpo eh come ben spiegare eh non rialunizza eh sono eh difficilmente eh eh non tanto eh accettabili ma difficilmente comunicanti della stessa che si trova quindi nella impossibilità di poter esibire eh eh fisicamente eh non so quale possa essere l'ambito eh di operatività di questa norma certamente eh le norme della tortura hanno scarsa situazione eh anche eh che da tempo hanno perché eh il processo di questo tipo eh non sono processi eh ordinari ma è vero che di nuovo il messaggio che ci è lanciato è il messaggio posto ecco l'occasione non importa queste vittime sono meno le vittime del reato dell'eccellenza della direzione assoluta sono meno vittime se eh è un'occasione ha pensato qualcuno eh che non si poterà perdere eh beh insomma credo che eh i danni che può fare diciamo questa vittura nello sgredolamento appunto eh dei valori e delle conseguenze eh sia in qualche modo eh da rimediare come dire eh attraverso nuovi interventi nel nel tempo eh e nei nuovi eh che non possiamo immaginare se non eh quelli generati da una eh nostra nuova per la docenza possiamo anche non occuparci più di questo problema possiamo anche pensare che l'avere intaccato i nostri valori in base è una cosa è tutto sommato trasturabile per la pensa qualcuno di fronte a la sicurezza possiamo anche accantonare eh il discorso in questo punto il problema per un anno noi siamo coscienti che eh questo volerà nonostante tutto nonostante le parole eh il fenomeno eh lo sappiamo esistico applausi 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 Allora, visto che avevo detto le vostre domande, approvvito per dire due cose a nostra visione importanti. Questa rivista l'abbiamo dedicata all'autore di Giulio Reggiani, malgrado avete capito che la nostra posizione è una posizione che va contro la cultura, in ogni sua forma, in ogni ambito, in ogni stato, in ogni posto del mondo. E quindi sappiamo bene che la vicenda di Giulio è ancora da capire sotto numerosissimi aspetti, però pensiamo anche alla sua famiglia e a una giovane vita interrotta. Non sappiamo a che cosa condurrà l'accertamento della giustizia, l'accertamento politico e via dicendo, però quello che sappiamo è che un giovane studioso è stato ucciso per mano della cultura. Quindi ci sembrava in un certo senso doveroso ricordarlo e attribuirvi alla memoria di questo nostro piccolo lavoro, pensando anche soprattutto alla famiglia. E in questo calvario ho una seconda cultura indiretta che sta subendo e che purtroppo credo che ancora per molto tempo, se ne è fatta in Africa ancora ad oggi, non abbiamo nessun tipo di verità all'orizzonte o comunque di risoluzione. Poi, visto che ci sono, volevo ricordare anche qualche nominativo, qualcuno già è messo, però ad esempio, non abbiamo fatto il nome di Lorenzo Guadagnucci e di Enrica Bartesani che hanno scritto un articolo, in quest'anno è stata di vista. Lorenzo Guadagnucci è scrittore e giornalista, componente del Comitato di Verità e Giustizia per Genova e la Presidente invece Enrica Bartesani. Poi abbiamo Riccardo De Vitto che è magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Sorveglianza di Sassari e attualmente Presidente di Magistratura Democratica. Temaniano Amato invece che ha scritto un pezzo con Michele e avvocato patrocinante di Cassazione, componente del Consiglio Direttivo della Camera Penale della Lombardia Orientale. Poi c'è Adriano Zanterini che invece è professore di Psicologia dell'Aulenza presso l'Università degli Studi di Padova e assieme noi abbiamo studiato tutte le vicende a partire dal G8 e successivamente sempre assieme. E poi c'è Roberto Settembre che è magistrato che poi si presi in campo con i processi di gozzamento, se ricordo bene, e che invece fa una disamina sulla giuntura dell'immigrazione, quindi che si arresta oltre confine ma che ci interessa una volta che appunto i migrati giungono sul nostro territorio. E qui si inserisce anche in un percorso poi di sanità, di accoglienza e di tutto il resto. Volevo infine dire che noi abbiamo un elemento che aggrava enormemente il percorso della tortura e c'è il grande mantra della sicurezza. Nel senso che oggi questo grande mantra a cui stiamo tutti assistendo è la sicurezza, sicurezza del terrorismo, può legittimare in un certo senso il ricorso ad alcuna violenza estrema. Quindi ecco, di fare molta attenzione in questo percorso perché quando si organizza un certo tipo di retorica basata sulla paura, basata sul distanziamento dall'altro, è chiaro che una certa organizzazione sociale, una certa organizzazione tra cittadini e Stato, ahimè, perca anche di emozioni che non sono positive, non regna la paura, la seduce, il distanziamento, la paura dell'altro. E quindi sono dei percorsi veramente molto importanti e anche da essere consapevoli anche di questo punto. Grazie. Se non so che con nessuno, per il risultato di intervenire, io non ringrazio ancora gli ospiti, ringrazio IBS, ringrazio di Pagare che ci ha accolto anche per questa terza sessione di Viglia della Ragione e vi do appuntamento all'anno prossimo per nuovi appuntamenti. Grazie mille.